Ecco fatto! Apertura di Topolino, Paperino e Pippo, i tre moschettieri, faccio io. Scelgo questo. Scelgo Topolino, Paperino e Pippo, i tre moschettieri, ti do io. Scelgo, Aladdin, Mulan, Tarzan, con due dischi, Topolino e la magia del Natale, Coda fratello orso, Mucche alla riscossa, Topolino strepitoso Natale, Mulan 2. Topolino, Paperino e Pippo, il re leone tre, Hakuna Matata, Tarzan 2, Bolt e Rai è l'ultimo drago. Apro. Io. Chiudo io. Fatto. Il titolo fatto. E' in arrivo la magia. Per la prima volta in assoluto. In Disney DVD. Ehi, qui c'è scritto qualcosa. Non si legge bene. Dopo diecimila anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Un'avventura totalmente esilarante, con i divertenti personaggi che amate, ora in una nuova spettacolare versione digitale. L'edizione speciale di Aladdin, in Disney DVD. Con contenuti speciali, degni di un sultato. Assolutamente meraviglioso. Con una canzone inedita, scoperta negli archivi Disney. Giochi interattivi. Io sto proprio sognando. Parti per un giro virtuale sul tappeto magico. E scopri, dietro le quinte del film, tutti i segreti della realizzazione. Oh! Sì! 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 Che bello! Del film che ha avuto la nomination agli Oscar, ricorderete per sempre, il coraggio, l'onore, ci hai salvati tutti, il trionfo. Ora, la sua leggenda continua. Walt Disney Pictures presenta Mulan 2, un film completamente nuovo. Un vero amore. L'amicizia. E una nuova avventura. La costringeranno a scegliere tra il dovere. E i sentimenti. Mulan 2, un film Disney in uscita in Disney DVD e videocassetta. Questo è Mulan con due dischi. Questo ce l'ho già. Un uomo di ogni famiglia deve servire nell'esercito imperiale. Padre, non puoi andare. Mulan, tu mi disonori. Una ragazza sfida la tradizione per salvare l'onore della sua famiglia. Il più grande d'oro e onore è avere te come figlia. Dal magico scrigno Walt Disney, ritorna Mulan in edizione speciale con due dischi per la prima volta in Disney DVD. Immagini e suoni digitali. Completamente rimasterizzati. Con nuovissimi contenuti speciali che vi porteranno oltre il film e dentro il mondo di Mulan. Splendido. Siediti accanto a me. Un video musicale con Jackie Chan e alcune scene mai viste prima. Sei un vero uomo. Beh, io o meno. Entrate nell'avventura. Accendimi. E nello splendore. Hai salvato tutti noi. Dell'animazione mozzafiato di Mulan. Come mai prima d'ora. Tu si incontra una ragazza come quella a tutte le dinastie. Mulan edizione speciale. Per la prima volta in Disney DVD e videocassetta. Finito. Ora inizia. Scusate. Scusate. Adesso stacco. Adesso stacco. Dio. Ma suaifiato.